Il Teramo è atteso da una trasferta davvero difficile al partenio di Avellino, la posta in palio è davvero alta, per il Teramo è importante fare risultato per inseguire il settimo posto, per cercare di agganciare il settimo posto, per l'Avellino invece è un confronto importante per difendere il secondo posto, quindi andiamo ad ascoltare l'umore dei tifosi. Il Teramo, quando gli avevano vinto, gli Avellinesi hanno battuto pure le mani e gli hanno fregato i 6 punti, sia il Teramo che l'Avellino. Quindi ti ricordi l'anno della Serie B? L'anno che dovevamo andare in Serie B, ha vinto sia il Teramo e sia l'Avellino. Quindi allora come finirà Avellino Teramo, un pronostico? Io dico che il Teramo vince 1 a 0. Sei fiducioso? Mi sai dire anche chi potrebbe segnare? Io se Bombaggi sta in forma non ce n'è per nessuno. Quindi è il giocatore e il leader di questa squadra del Bombaggi? L'altro non lo so se gioca ancora molto. Quindi qui vincendo l'Avellino tu speri che il Teramo possa arrivare settimo? Io spero di arrivare settimo, però ci facciamo pure i play-off e li vincemo e speriamo bene. Sei ultra ottimista? Ultra ottimista. Vabbè, a poco avranno di fosca da fare. Vabbè, a poco avranno di fosca.